Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla statale 7.4 Domiziana, sino al prossimo 24 settembre, per consentire i lavori di manutenzione alla sede stradale, nella fascia oraria, compresa tra le 7.30 e le 18.30, troverete attivo il restringimento di carreggiata tra le località Mondragone e Castelvolturno in tutte e due le direzioni. Qui i lavori vengono effettuati in tratti saltuari e il cantiere viene sospeso nel periodo compreso tra il 13 e il 26 agosto. Sulla statale 87 Sannitica, invece, lavori di lungo periodo, sino a giovedì 11 ottobre, troverete attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto compreso tra gli svincoli Ponte Landolfo e Morcone in tutte e due le direzioni in tratti saltuari. Sino alle ore 16 di martedì 14 agosto, invece, sulla statale 145 Sorrentina, troverete chiuso al traffico lo svincolo di Gragnano in ingresso verso Sorrento causa lavori di manutenzione. E da qui ci spostiamo sulla statale 268 del Vesuvio, dove invece, sino alle 17 di venerdì 10 agosto, è ancora chiuso al traffico il tratto compreso tra le uscite Ottaviano-Zona Industriale-Somma-Vesuviana in direzione del capoluogo partenopeo. Infine, per quanto concerne il trasporto pubblico, vi ricordo ancora che sino al prossimo 31 agosto la funicolare di Mergellina-Napoli resta chiusa al pubblico e pertanto attiva un servizio sostitutivo su gomma mediante l'autolinea 621 dell'ANM sulla tratta Manzoni-Mergellina. È tutto dalla redazione Muoversi in Campania, un saluto da Gigi Gallo.